Forza, pazza, anima e forza e coraggio 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 Forza, pazza, anima e coraggio Forza, pazza, anima e forza 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 e coraggio Forza, pazza, pazza, anima e forza e coraggio Forza, 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 pazza, 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 pazza Forza, pazza, 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 pazza noi ci dipendiamo O O Lio Riola, E Luione, Pescea e noi altri laboratori O Lio Riola, E Luione, Pescea e noi altri laboratori vogliano ripetar noi altri signori che avete tanto voglio albussate la superbia e altri signori che avete tanto voglio Ma lo salterà su vecchia, che ha vinto il portafoglio O la libertà, il mondo non è vencerà E per i loro oratori, e per i loro oratori O la libertà, il loro oratori non è vencerà E per i loro oratori, vogliamo la libertà E per i loro oratori, ma ci sono bombardamenti tutti i giorni? Sempre, giorni e notte, non ne vediamo più Ma è tutto distrutto, non si riesce a venire in fondo della strada per la polvere che c'è Mamma, ma dov'è casa nostra? La sotto, appena finisce la polvere, oh mio Dio, non c'è più nulla Nel bombardamento del 16 aprile, oltre a Palazzo San Demetrio Fu completamente distrutta la sede dell'Istituto Magistrale Turisti Colonna Insieme alla vicina chiesa dedicata a Sant'Eurio, l'oratore selesiano San Filippo Neri In cui morirono quattro studenti, il Palazzo della Fruttura e il Sottostante Rifugio Dove trovarono la morte decine di persone in cui si erano rifugiata A Catania, invece, era già cominciato il dopoguerra Grazie